A Noto stiamo cercando di riorganizzarci, ovviamente il periodo di fermo ci ha creato non pochi problemi come in tutto il resto del mondo, è chiaro che adesso bisognerà rimboccarsi le maniche e cercare di ripartire. Noi lo stiamo facendo attraverso diverse iniziative, abbiamo una bella capacità ricettiva nella zona, noi facciamo ricettività e servizi per la ricettività, ovviamente ci stiamo concentrando su questo settore, stiamo cercando con tutti i modi e tutti i mezzi di ripartire, acquisire l'attenzione di tutti quei turisti per lo più italiani, perché quest'anno saranno per lo più italiani che vogliono soggiornare nel nostro territorio e lo stiamo facendo attraverso diverse iniziative, tra cui quella che sta mostrando molto di aiuto è denominata Sconto e Compro, si tratta di un progetto che praticamente coinvolge tutta una serie di attività di natura ricettiva, dove sostanzialmente chi aderisce mette a disposizione la propria struttura, dando la possibilità a chi vuole soggiornare nella nostra zona di utilizzare questo progetto per avere degli sconti, ovviamente a parte quelli già previsti dal governo nazionale regionale, avere ulteriori sconti per il proprio soggiorno. Questo progetto serve per attirare ovviamente l'attenzione dei turisti, perché ovviamente con questa iniziativa tendono a risparmiare sui costi del soggiorno, ma serve anche da vetrina e tutte quelle attività commerciali, quindi in questo caso attività ricettive, che possono attraverso questo progetto far conoscere ancora di più la propria struttura ricettiva, il proprio metodo di accoglimento e quant'altro. Noto la Sicilia, il Sud riparte per lo più attraverso operazioni nell'ambito turistico ristorativo, perché ovviamente si tratta di un paese, lo sappiamo tutti, a vocazione turistica, però questo progetto tende anche a coinvolgere altre attività commerciali, altri operatori commerciali che operano anche in altri settori importanti, quindi è un progetto a 360 gradi che può servire a tutte le attività commerciali di essere più visibili e quindi aumentare i propri ricavi, il proprio fatturato. Devo dire che stiamo avendo abbastanza riscontro, un notevole riscontro, una rete composta da operatori commerciali che hanno tutta la voglia di rimborcarsi le maniche e ripartire, dando la possibilità a tutti i propri clienti di risparmiare.